Oggi per la giornata internazionale di commemorazione di tutte le vittime innocenti di mafia, la CGL Palermo invita a postare sui social una foto dedicata in particolare al ricordo delle vittime della strage di Portella e di tutti i dirigenti sindacali uccisi dalla mafia. Nonostante l'inedita e drammatica situazione che tutti stiamo vivendo, riteniamo giusto e doveroso, in occasione della giornata di ricordo di tutte le vittime innocenti e le mafie prevista per oggi, commemorare tutte le vittime innocenti barbaramente uccise dalla criminalità organizzata, dichiara il segretario generale CGL Palermo Enzo Campo. Quest'anno Libera aveva individuato Palermo quale città ospite della manifestazione nazionale. L'emergenza coronavirus ha imposto lo spostamento e l'evento al 23 e 24 ottobre prossimi. Ciononostante, riteniamo fondamentale dare un segno tangibile del nostro impegno, il ricordo delle tante vittime innocenti, pure se in modo virtuale postando delle immagini sui social. Il suggerimento su proposta della CGL di Libera è quello di scattare una foto per dare centralità a tutte le vittime cadute per mano mafiosa. E il suo particolare ricordo, la CGL Palermo, vuole dedicarlo alle vittime della strage di Portella e la Ginestra e a tutti i dirigenti sindacali uccisi dalla mafia. La foto può essere caricata su Facebook come fotoprofilo e seguendo le indicazioni del link www.cgl.it. 21 marzo, CGL è libera sui social il ricordo delle vittime innocenti di mafia. Può essere aggiunto il motivo che fa riferimento alla giornata di oggi. Se saremo in tanti, dice la CGL, faremo sì che nonostante tutto questa giornata non passi sotto silenzio e che diventi un momento collettivo di esercizio della memoria e di testimonianza del nostro impegno a favore della legalità e della lotta alla criminalità organizzata per ricordarci e ricordare sempre da quale parte stiamo.